Gli ultimi dubbi sono stati dissipati e l'enigma per essere giunto alla soluzione. La Virtus ha trovato la quadra per trasferirsi in fiera e il derby di Basket City si giocherà regolarmente il 25 dicembre. La soluzione è stata trovata grazie alla collaborazione di chi gestisce gli spazi espositivi allargando il margine di manovra del club bianconero. Salvo ripensamenti, il padiglione utilizzato sarà il numero 30 e sarà già possibile allestirlo da metà a ottobre in poi. A quel punto ci sarà tutto il tempo per fare le verifiche per ottenere le necessarie autorizzazioni. In questo modo la struttura dovrebbe essere pronta per la metà del mese di novembre quando la Virtus affronterà Treviso. Non cambiano i numeri con la capienza che dovrebbe essere superiore ai 9.000 posti. Giocando 5 gare, i costi che per l'impianto temporaneo dovrebbero aggirarsi attorno ai 500.000 euro sarebbero ben assorbiti e questo renderà sostenibile il trasloco. Spostandosi sul fronte fortitudo la squadra di coach Martino Sosterrani. Il primo test contro una formazione di Serie A, quella a Brescia, che non più tardi di 48 ore fa ha superato a Parma la stessa Virtus. Non ci sarà Ed Daniel ancora alle prese con un fastidio al tendine d'Achille, mentre Sarabi le ha ruolato Matteo Fantinelli. Dopo quasi quattro mesi di stop, il player Romagnolo è già sceso in campo nello scorso fine settimana. Il regista, insieme alla guardia Cassius Robertson, è uno dei pochi giocatori del roster bianco-blu ad essere debuttante del massimo campionato italiano, per cui questi incontri serviranno anche per far capire quale sarà il livello con cui ci si dovrà confrontare per tutta la stagione.